Enesima frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino che ha stroncato una truffa in commercio del valore di 5 milioni di euro. Questa volta nei guai è finito un imprenditore italiano che, salva la presunzione di innocenza, dovrà rispondere di frode e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Tutto è iniziato qualche mese fa quando dagli scaffali di alcuni negozi torinesi i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno notato accessori di telefonia reclamizzati come prodotti di origine italiana con tanto di bandierina tricolore. Sono scattate le indagini di accertamento coordinate dalla Procura di Torino che hanno portato ad individuare il deposito situato in provincia di Monza-Brianza dove proveniva la merce e dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 500 mila articoli accessori di telefonia dai caricabatterie ai vetri protettivi per cellulare, auricolari e custodie, il tutto in prossimità di essere messi in vendita con sigillo nazionale nonostante i prodotti fossero stati interamente realizzati in Asia. Il modus operandi dell'imprenditore prevedeva che la merce importata dall'estremo oriente venisse presentata in dogana in imballi primari privi di indicazioni riconducibili a un'origine italiana mentre al loro interno sono risultati apposti i simboli tipici quali il tricolore idonei a ingannare il cliente finale. Nel corso dell'operazione sono anche stati sequestrati sei macchinari industriali utilizzati per le etichettature illecite dei prodotti.